Contratto di espansione o isopensione. Sono queste le proposte suggerite dalle segreterie provinciali di CGL, Cisle e UIL durante il primo tavolo tecnico che si è svolto in Confindustria Chieti Pescara riguardante la vicenda Brioni, a cui hanno partecipato anche le RSU sindacali, oltre a Paolo Petrucci come rappresentante dell'azienda e Pierpaolo Cervellini per Confindustria. Le organizzazioni sindacali hanno proposto la possibilità di ricorrere all'utilizzo del cosiddetto contratto di espansione, il quale consentirebbe ai lavoratori che si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia la possibilità di accedere ad un'indennità mensile al momento della cessazione del rapporto di lavoro o addirittura l'isopensione, che fino al 2023 dà la possibilità ai dipendenti di accedere alla pensione con sette anni di anticipo, sempre con l'aiuto dell'azienda. I vertici aziendali però hanno già bocciato queste soluzioni, dichiarando che gli strumenti sopracitati non sono percorribili e sostenibili. Sicuramente l'azienda, marchio di lusso dedicato alla moda maschile guidata dal gruppo Kering, attiverà l'ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione Straordinaria al termine dell'utilizzo della Cassa Integrazione Ordinaria Covid-19. Nel caso di proroga di quest'ultima da parte del Governo nazionale, la stessa sarà prioritaria rispetto all'utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria. Inoltre le parti hanno concordato di condividere una struttura di incentivazione all'esodo con crescita proporzionale per tutta la durata degli ammortizzatori sociali, senza però al momento nessuna indicazione sull'importo. Intanto nei giorni scorsi è ampia disponibilità sul confronto, cercando di trovare il prima possibile soluzioni per scongiurare l'esubero di 320 lavoratori e quanto dichiarato dal Presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio e dall'Assessore alle Politiche del Lavoro Pietro Quaresimale, dopo l'incontro avuto con l'amministratore delegato della Brioni Mehedi Benabagi. L'amministratore delegato ha illustrato la situazione dell'azienda dopo l'annuncio della riduzione del personale. Il dato positivo emerso, al di là delle ipotesi di riorganizzazione dell'azienda, è la disponibilità al confronto necessario per evitare ricadute sul fronte occupazionale. La Regione naturalmente è pronta a mettere in campo tutti gli strumenti normativi di competenza per agevolare questo confronto. Sulla vertenza, confermano infine, verrà attivato anche un tavolo regionale, mentre i tavoli tecnici proseguiranno nelle prossime settimane.